Una donazione, da 150.000 euro, a rate a favore delle cure per i bambini orfanei. L'ha fatta, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Cardinale Bertone. Dopo la vicenda delle maxispese, di ristrutturazione, del suo appartamento in Vaticano. Ha sparato alla ex fidanzata Ferendola, e poi si è suicidato. E' accaduto stamattina a San Giorgio Aliri, nel Frussinate. Il giovane, non aveva accettato la fine della relazione. Lei lo aveva lasciato circa due mesi fa. Tutti a piedi lungo la via Francigena del Nord. Nicola Zingaretti, questa mattina ha inaugurato il tratto del tradizionale cammino percorso dai pellegrini per arrivare nella capitale. Mezzi pubblici gratuiti e potenziamento delle corsie preferenziali per i taxi. E la proposta per il problema smoga Roma, di Francesco Storace, leader della destra. Grazie. 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 Grazie.